Benvenuti su ClaudioMasci.com Ritorno a parlare di TikTok perché c'è un'importante novità Cioè a partire dal 9 febbraio TikTok andrà a bloccare tutti gli account in Italia Che non hanno la data di nascita verificata Il blocco non è definitivo e chiunque può sbloccarsi autonomamente L'unica cosa da fare è andare ad inserire la propria data di nascita Quindi chi l'ha già fatto, quindi chi ha già la data di nascita verificata Non noterà nessuna differenza Mentre chi non ha verificato la propria data di nascita dovrà farlo a partire dal 9 febbraio Questo perché a partire da quella data Tutti gli account di persone che hanno un'età inferiore ai 13 anni Verranno cancellati definitivamente Infatti su TikTok ma così come su qualsiasi altro social network Non è possibile iscriversi se non si hanno compiuto almeno 13 anni Nonostante le diverse critiche ricevute C'è da dire che effettivamente TikTok è la società che più si sta impegnando Nella protezione, nella salvia guardia dei minori Aggiungendo continuamente nuove misure di sicurezza Probabilmente è anche vero che è forse il social network più utilizzato dai minori Ma comunque è quello che davvero si sta impegnando di più Nel corso degli ultimi tempi infatti hanno disattivato la possibilità per i minori di 16 anni Di scambiare messaggi privati Sono stati resi privati tutti gli account dei minori sempre di 16 anni E adesso quindi dal 9 febbraio arriva proprio il blocco di tutti gli utenti che non hanno compiuto 13 anni Questo è scritto direttamente nel blog di TikTok Quindi è una news ufficiale pubblicata direttamente da TikTok E riguardo proprio all'Italia dicono Nelle ultime due settimane siamo stati in costante contatto con il garante L'autorità italiana per la protezione dei dati Oggi abbiamo raggiunto un accordo e stiamo compiendo ulteriori passi Per supportare la nostra community in Italia TikTok è un'app riservata a persone di età pari o superiore a 13 anni Abbiamo già una serie di misure in atto per rilevare e rimuovere utenti di età inferiore ai 13 anni Dal 9 febbraio attraverso un aggiornamento della nostra app Faremo passare nuovamente ogni utente in Italia attraverso il processo di verifica dell'età Solo gli utenti di età pari o superiore a 13 anni potranno continuare a utilizzare l'app Dopo aver eseguito questo processo Gli utenti che hanno più di 13 anni ma che per errore potrebbero immettere accidentalmente un'età sbagliata Potranno presentare ricorso mentre il loro account rimane sospeso Quindi in sostanza martedì prossimo ci sarà un aggiornamento dell'app Quindi una nuova versione di TikTok scaricabile dagli store Che riporterà, quindi riforzerà gli utenti a inserire la propria data A verificare la propria data E per quanto riguarda i minori verranno bloccati i loro account Come hanno scritto se per sbaglio qualcuno dovesse inserire una data sbagliata Quindi dalla data far risultare che ha meno di 13 anni ma in realtà ne ha di più Può fare ricorso quindi contattare TikTok per farsi sbloccare l'account Credo probabilmente richiederanno una copia della carta d'identità Quindi non lo sbloccano automaticamente se diciamo guarda io ho più di 13 anni ma vorranno avere delle prove Per questo video è tutto, come sempre troverete il link a questa pagina che vi ho fatto vedere sul mio sito web Quindi da YouTube andate in descrizione, link articolo e lì dal mio articolo sul sito troverete il link per la pagina di TikTok Come sempre se avete dubbi, domande o suggerimenti scrivetemelo nei commenti Vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo